I finanziari del Comando Provinciale di Latina, all'esito di una complessa attività di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Cassino, hanno dato esecuzione all'applicazione della misura interdittiva di esercitare attività imprenditoriali e professionali nei confronti del titolare di un'impresa edile formiana e proceduto al sequestro di disponibilità finanziaria riconducibile alla società per un ammontare pari ad oltre 610.000 euro. L'indagine, condotta dalle fiamme gialle del gruppo di Formia, ha preso le mosse da una mirata analisi di rischio svolta sulle imprese beneficiarie dell'incentivo Formazione 4.0, erogato con i fondi PNRR, ed ha consentito di ipotizzare la commissione di un complesso meccanismo di frode basato sulla creazione ad hoc di crediti d'imposta inesistenti e la successiva compensazione illecita di questi bonus in sede di versamento delle imposte dovute con un ingente danno alle casse erariali. In particolare, l'impresa destinataria del provvedimento ha azzerato quasi del tutto il proprio debito tributario e contributivo ricorrendo per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 all'Istituto della compensazione dei crediti d'imposta ritenuti inesistenti sia relative ai bonus per le attività di ricerca e di sviluppo che per la formazione del personale dipendente prevista dal Piano Nazionale Industria 4.0. Dagli approfondimenti svolti dagli investigatori sarebbe infatti emerso che i diversi dipendenti della società non hanno mai effettuato alcuna attività formativa non risultando realmente effettuati i corsi posti alla base della richiesta della compensazione. Le indagini svolte dai finanzieri hanno anche rivelato la mancata esecuzione delle attività di ricerca e di sviluppo presupposto per beneficiare dei crediti d'imposta. Gli elementi investigativi raccolti hanno quindi indotto il GIP del Tribunale di Cassino a disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca pari alla montare delle imposte evase corrispondenti a circa 610.000 euro e ad applicare la misura interdittiva nei confronti del rappresentante legale della società beneficiaria della frode.